Le elezioni regionali anticipate dovevano tirar fuori l'Emilia-Romagna dal caos dopo le dimissioni del presidente Vasco Errani, condannato in secondo grado per falso ideologico in atto pubblico per l'inchiesta sulla vicenda a terre merse. E invece anche l'appuntamento elettorale del 23 novembre è già piombato nel caos. Si è diffusa infatti ieri la notizia di otto consiglieri regionali del PD indagati per peculato dell'inchiesta della Procura di Bologna sulle spese pazze dell'Assemblea Legislativa. Ieri mattina si apprende che c'è anche il deputato modenese Matteo Richetti tra gli indagati, tanto che l'erenziano non ha ufficializzato la sua candidatura alle primarie del 28 settembre per la corsa alla presidenza dell'Emilia-Romagna. In serata la seconda notizia è che gela le primarie. Anche il candidato Stefano Bonaccini è indagato nell'inchiesta per peculato della Procura di Bologna. Bonaccini però non fa un passo indietro. In provincia intanto 583 sindaci e consiglieri comunali voteranno il 12 ottobre. Forza Italia, Lega Nord, Undici e Fratelli d'Italia hanno ribadito l'intenzione come coalizione di collaborare alla formazione di un'unica lista di centrodestra. Sul nome del candidato a presidente è stato chiesto all'uscente Massimo Trespidi se si è ancora interessato a rappresentare lo stesso schieramento di centrodestra. Ho letto il comunicato del centrodestra per quanto riguarda le provinciali e voglio esprimere apprezzamento per le parole che hanno avuto e ringraziarli. Credo che questo invito a ricandidarmi dipende in modo particolare soprattutto dal buon governo che l'amministrazione provinciale da me guidata ha potuto produrre in questi cinque anni. Come tutti sanno però io per il momento non sono in grado di sciogliere nessuna riserva in quanto solo nei prossimi giorni avrò più chiaro la situazione familiare che da quest'estate ci ha molto preoccupato.